gentili telespettatori buona giornata sondaggio tp termometro politico di oggi venerdì 17 marzo 2023 sulle intenzioni di voto politiche nazionali fratelli d'italia primo partito col 29,5 per cento il pd al 18 per cento il movimento 5 stelle al 16,4 la lega al 9,2 azione italia viva al 7,7 forza italia al 7,5 più europa 2,3 paragone con italexit 2,2 sinistra verdi al 2 per cento democrazia sovrana popolare 1,6 unione popolare 1,5 altri partiti messi tutti insieme 2,1 per cento grazie a tutti per avermi ascoltato e buon procedimento di giornata grazie e arrivederci